Arrestato poco dopo il valico di Basovizza, un pregiudicato albanese di 40 anni. Lo straniero era ricercato da tre anni per un ordine di carcerazione di un anno e otto mesi per il reato di evasione commesso in provincia di Novara nel 2014, ma per sfuggire ai controlli era tornato in patria, dove si era sposato e dove la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Così ha fatto il pregiudicato, assumendo il cognome della donna sui documenti, in modo da rientrare nel nostro paese con una nuova identità di fatto pulita. Lo stratagemma però non ha funzionato di fronte ai carabinieri del comando di Duina Orisina che l'hanno fermato e accompagnato in caserma per i controlli del caso. L'identificazione lo ha tradito e ha permesso di ricostruire le vicende giudiziarie dell'uomo che al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia.